da Campobasso, ben trovato Donato. Buongiorno a voi. Eccoci qua, faccia pure la sua domanda. Aspetti che tolgo l'audio al televisore. Bene. Mi sente? Io la sento benissimo. Allora, eccomi qua. La mia domanda banale, insomma, perché riguarda un po' gli rapporti con tutte queste certificazioni e contro certificazioni che hanno creato spesso difficoltà a tutti noi cittadini. Il mio figlio sta rientrando dalla Francia dopo un periodo di studio lavoro. Sì. Deve dovrei rientrare, è scaduto tutto il 31 di maggio, stamattina prende il treno. Il treno dalla Francia all'Italia è stato soggetto a due o tre controlli. Certificazioni, tutto a posto, se non che nessuno gli sa dire, anzi qualcuno gli ha appaventato che lui adesso riuscite a Torino per fare la quarantena a Torino. Lui ha già il treno per Roma, probabilmente lo perde, ma nessuno gli sa dare risposta sul fatto che, insomma, potrebbe qualcuno bloccarlo, potrebbe essere bloccato a Torino e fare la quarantena a Torino. Ovviamente lui non sa neanche dove stare a Torino. Certo, certo. Va bene, sentiamo se Celotto è in grado di risolvere questo dubbio. Il Poliziotto gli ha detto una cosa, il tapotreno gli ha detto un'altra, lui dice se io scendo a Torino e mi bloccano che faccio? Certo. Allora, sentiamo cosa dice Celotto. Allora, questione abbastanza bizzarra, anche perché dal 3 giugno non dovrebbe più fare quarantena. Oggi invece chi rientra dall'estero da paesi aria Schengen fa quarantena o isolamento domiciliare in luogo da lui prescelto. A rigore devi farlo nel punto in cui entra in Italia. Quindi ha ragione chi gli dice Torino, però capisco anche il buon senso e dice lo faccio a Campobasso. Cioè se lui riesce a stare in isolamento fino a Campobasso, non incontrando nessuno e il minore numero di persone possibili, può autodichiararsi che andrà a Campobasso e fargli la quarantena. Comunque deve farlo alla quarantena o l'isolamento fiduciario ad oggi. Ad oggi lo deve fare, ma dal 3 giugno non più? Dal 3 giugno dovrebbero venire meno tutti le quarantene. No, perché allora forse verrebbe la pena, dal suo punto di vista, spostare di due giorni la partenza. Sì. Così non corre il rischio di essere fermato a Torino e poi gli dicono no, te la fai qua la quarantena. Sì, è di buon senso rientrare il 3 giugno e il 4 giugno. Per quanto serva ancora un BPCM, ovviamente chiarisce bene i rientri aria Schengen, però al momento dovrebbero essere tutti tolti le quarantene, quindi conviene aspettare due giorni. Va bene. Il buon senso è sempre prima del diritto. No, nel senso che appunto mi chiedo se il punto è non sapere se poi si viene fermati a Torino e trovi qualcuno che, poiché ha un'indicazione che è incerta, un po' zelante e che ti blocca a Torino e a Torino non c'hai casa, non c'hai nulla e hai davanti a te 14 giorni, forse aspetti due giorni e rientri direttamente a casa tua a Campobasso. Mettiamola così.